Non si abbassa la testa rincorrendo il sogno di essere uomini liberi. Un uomo non libero non è un uomo fino in fondo. Per cui dire ai ragazzi stamattina cercate di essere uomini liberi, responsabili, guardatevi intorno, cercate di capire chi è coerente o no. E' un grande insegnamento che io ho ricevuto nel corso della mia vita quando ero giovane e che mi sto portando dietro e che mi dà la forza per continuare a fare il mio lavoro. Michele Albanesi, il giornalista del quotidiano del Sud, sotto scorta per i suoi articoli di denuncia contro l'Andrangheta, oggi ad Arezzo ha incontrato gli studenti all'università del campus del Pionta. La frase quando diceva sporchiamoci le mani è rimasta comunque impressa perché molti non vengono toccati a questo argomento, uno non ci pensa, l'informazione soprattutto ai ragazzi non c'è. E' una frase che è sembrata forte perché oltre a averci dato l'impatto della realtà, della cosa, della presenza reale ovunque, dell'Andrangheta, della Camorra, della mafia, lui ci ha invitati a pensarci e a fare qualcosa realmente. Ed ha parlato anche del caso di Pino Maniaci, il giornalista di Teleiato, conosciuto per le sue battaglie contro la mafia, adesso accusato di estorsione. Intanto aspetto di capire se io conosco Pino Maniaci e l'ho conosciuto e aspetto di capire se le accuse sono vere. Certo, quanto è successo fa pensare, così come fa pensare la consapevolezza che le mafie sono così intelligenti da infiltrarsi anche nel cosiddetto mondo antimafia. Ecco, noi dobbiamo in qualche maniera cercare di tutelare questa dimensione. a me non piace definirmi giornalista antimafia, sono giornalista e basta, non aspetta a me, aspetta a me informare correttamente i miei cittadini, la mia gente, aspetta di fare il mio lavoro nel rispetto vero dei codici deontologici dei giornalisti e se facendo questo nostro lavoro in maniera corretta tu fai in modo che alcuni fenomeni emergono in tutta la loro gravità, beh vuol dire che hai fatto bene il tuo lavoro.